cari amici come state ben ritrovati un saluto a tutti vi ricordo come sempre di commentare numerosi di lasciare un bel like e iscrivetevi da questa parte attivate la campanella numerosissimi mi raccomando allora attenzione 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 perché ragazzi potremmo essere di fronte alla svolta per quanto riguarda joshua zirze il minan va avanti in questa trattativa e prova a stringere e a chiudere il cerchio come si dice per arrivare a dama l'accordo col giocatore c'è nel senso che lui ha dato piena disponibilità a vestiricoli rossoneri vuole rimanere in italia e oggi c'è il milan ha incontrato anche salta di braimovic attenzione a chi ha iorab chan che pare possa mollare qualcosa a livello di richieste di commissione e quindi andare incontro alle esigenze del milan di abbassare la quota commissione che non può essere di 10 12 milioni di euro di fronte un'operazione da 40 nei prossimi giorni è atteso un ulteriore summit con la dirigenza di milan che potrebbe partire verso londra per incontrare appunto chi ha iorab chan che vive a londra e cercare di vivere alla quadra magari trovandosi a metà tra i 5 che propone il milan ai 10 12 magari intorno ai 7 milioni di commissione di euro credo non oltre per il milan a quel punto ci sarebbe la strada spianata per arrivare all'accordo con la clausola che può essere esercitata dal primo luglio il milan vuole regalare i suoi tifosi e a fonseca joshua zirzeri tenendolo il giocatore di livello attenzione perché convince tutti la grande maggioranza della tifoseria fonseca ibra moncada e anche furlani e quindi attenzione perché c'è piena 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 convergenza verso joshua zirzeri che l'obiettivo numero uno lo è sempre stato lo è tuttora con i milan che vuole ripeto provare a arrivare ad avvicinarsi alla chiusura ditemi che ne pensate commentate numerosi lasciate un bel like iscrivetevi siete fiduciosi o pessimisti desiderosi di vederlo o magari non vi piace non vi convince scatenate di leggero i vostri commenti un abbraccio grazie grazie grazie